La prima via di DevOps. Ciao, io sono Michele e in questo video andiamo ad analizzare la via del flusso, cioè quell'insieme di pratiche e di metodologie che possiamo e dobbiamo adottare se vogliamo velocizzare, ridurre i tempi con cui sviluppiamo e consegniamo il valore all'utente finale. Nel video precedente ho parlato in generale di tutte e tre le vie del DevOps, ma oggi facciamo proprio un approfondimento sulla prima e vediamo in che cosa consiste. La prima via ruota intorno al concetto del value stream di flusso del valore che è preso a piene mani da quello che è la filosofia lean del mondo manufatturiero. Che cos'è il value stream? È quell'insieme di attività che un'organizzazione deve compiere per soddisfare una richiesta cliente. Quindi, per esempio, nel nostro mondo potrebbe essere l'implementazione di un certo software e di una certa funzionalità all'interno di un software. In generale, il flusso del valore viene rappresentato come una freccia che va da sinistra verso destra, dove a sinistra abbiamo le prime attività, l'inizio dell'attività che noi svolgiamo, e a destra abbiamo quando il valore viene consegnato all'utente, al cliente. La prima via ruota intorno al concetto del value stream di flusso del valore che è preso a piene mani da quello che è la filosofia lean del mondo manufatturiero. Che cos'è il value stream? È quell'insieme di attività che un'organizzazione deve compiere per soddisfare una richiesta cliente. Quindi, per esempio, nel nostro mondo potrebbe essere l'implementazione di un certo software e di una certa funzionalità all'interno di un software. In generale, il flusso del valore viene rappresentato come una freccia che va da sinistra verso destra, dove a sinistra abbiamo le prime attività, l'inizio dell'attività che noi svolgiamo, e a destra abbiamo quando il valore viene consegnato all'utente, al cliente. Per quanto riguarda magari un ordine manufatturiero, nell'ambito manufatturiero, il value stream inizia quando accettiamo un ordine cliente, dopodiché vengono mossi dei materiali in fabbrica, vengono assemblati, inscatolati e spediti all'utente finale, al cliente che ha fatto la richiesta. Per quanto riguarda il mondo tecnologico, invece, il nostro lavoro inizia con i development che scrive la richiesta, che accetta il lavoro, che accetta il lavoro, inserendolo nel backlog. E abbiamo l'inizio. Dopodiché abbiamo tutte le altre attività tipiche del mondo dello sviluppo, che sono quindi effettivamente il coding, poi abbiamo, in una maniera o nell'altra, a seconda della filosofia, il testing, che possono essere attività che vanno molto a braccetto, svolte in contemporanea, almeno per quanto riguarda i developer test, cioè test di unità e alcune famiglie di test di integrazione. Dopodiché abbiamo tutte le varie attività, quelle che sono il deployment, nei vari ambienti, e dopodiché qui abbiamo il nostro utente finale, il nostro cliente, che può beneficiare della nuova funzionalità o di quello che abbiamo sviluppato. Quando ci interessiamo alla prima via, dobbiamo avere sempre presente questi due concetti fondamentali, quello che è il lead time e il cycle time, che sono due misurazioni che vanno a fare, a misurare quanto tempo intercorre tra cosa e cosa, adesso lo vediamo. Allora, questa è la nostra linea temporale, mettiamo il T, e che cosa c'è? Allora, qui diciamo il development accetta il lavoro, quindi una sorta di work item, di ticket, chiamiamolo come vogliamo, di issue, viene creato nel backlog dello sviluppatore, o degli sviluppatori e del team. Dopodiché abbiamo tutte le varie attività, non sto a segnarle, ma abbiamo una milestone importante, in che il lavoro è iniziato. Il lavoro è iniziato. Qui semplicemente a sinistra lo abbiamo registrato nel nostro sistema, lo abbiamo preso in carico, abbiamo detto, ok, esiste, lo vogliamo fare. E poi effettivamente iniziamo. Poi qui abbiamo il lavoro terminato. Terminato. Ecco, allora qui si inseriscono in questo contesto quello che sono il lead time e il cycle time. andiamo a cambiare un attimo colore. Abbiamo che il lead time, che è quello che interessa all'utente finale, è il tempo che intercorre dal momento in cui che, nel momento in cui io accetto l'ordine, accetto il lavoro, al momento in cui io lo consegno, lavoro terminato, proprio in termini di consegnato in produzione. Mentre l'altro valore a cui facevamo riferimento è il cycle time, è questo qui, il tempo che trascorre da quando io inizio a lavorare effettivamente su quella commessa a quando termino e lo consegno in produzione. Ecco, quindi sono due indicatori importanti. Qua lo scriviamo, cycle time, tempo ciclo, ok? E il rapporto tra cycle time e lead time può essere un indicatore importante di quanto sono efficienti i nostri processi, perché tutto quello che avviene qui dentro è sostanzialmente spreco. Cioè il work item, il nostro lavoro, la nostra feature, quello che è, resta in attesa. Non è nient'altro che tempo sprecato, in attesa, in coda, perché stiamo facendo qualcos'altro. L'obiettivo ultimo della prima via è quello assolutamente di ridurre il lead time, quindi impiegare tutti quelli che sono dei processi intelligenti e furbi, non lavorare di più, non lavorare più duramente, ma lavorare in maniera più intelligente, per andare ad abbassare questo tempo. E andiamo a vedere alcune di queste tecniche. Un primo concetto che dobbiamo fare nostro è quello dell'ottimizzazione di processo a livello globale. Non dobbiamo ragionare in termini ottimizzazioni locali, quindi in questo caso, dove abbiamo un classico flow, dove abbiamo il business che raccoglie un requisito, quello che è, poi abbiamo lo sviluppo, operation o esercizi, e infine il deployment ai clienti, dobbiamo cercare di ottimizzare per l'obiettivo globale il suo processo, nella sua interessa, invece che ottimizzare in maniera singola e specifica, isolata dagli altri, i vari dipartimenti. Perché quello che spesso può essere controintuitivo è che un sistema di ottimi localizzati, quindi di processi ottimizzati, ma solo all'interno di certi dipartimenti, in realtà non compone un sistema ottimale, un sistema ottimo, dove le tempistiche sono state ridotte all'osso. Bisogna cominciare a pensare in ottica globale, dall'inizio alla fine del processo. Perché, per esempio, non posso avere, anche se io faccio super efficienza nel reparto di sviluppo e poi i tester, la butto lì, non ci stanno dietro, o meglio ancora, non ho pratiche di deployment automatizzate che permettono di stare dietro alla velocità dei developer, beh, di questa velocità me ne faccio poco. Quindi un sistema che ha estremamente ottimizzato e non è il sistema più veloce in assoluto. Per migliorare il flow ho una piccola ricetta da seguire. La prima cosa che possiamo fare è quella di innanzitutto rendere visibile il lavoro. Cioè, all'interno del mondo IT, a differenza del mondo manufatturiero, il lavoro è invisibile, non ha una forma, non ci occupa un magazzino, non ci occupa dei corridoi, è intangibile. La prima cosa che dobbiamo fare è renderlo visibile, quindi dotarci di strumenti come possono essere vari prodotti che mettono a disposizione delle Kanban board per visualizzare bene quello che è all'interno del nostro sistema. Dobbiamo investire nella qualità, quindi cercare di portare il più a sinistra possibile del nostro processo controlli qualità e incrementare la qualità di quello che scriviamo. Per esempio, tra le pratiche più diffuse sono quelle della scrittura degli unit test. Infine, cercare di prevenire il passaggio di difetti che va a braccetto con la cosa vista prima. Cioè, se io nei vari passaggi tra un dipartimento e l'altro, tra un processo e l'altro, passo delle cose con i difetti, questo mi causa delle rilavorazioni, quindi il lavoro deve essere preso, rimandato nella fase precedente, dobbiamo ritornare nel contesto, sistemare e ripassarlo davanti, quindi con un notevole spreco di tempo. Una delle tecniche più efficaci che possiamo impiegare per aumentare il flow, quindi velocizzare il numero di cose che portiamo a termine, è quella di sfruttare la legge di Little, che è la legge che matematica, che conta, che riesce a misurare quello che è il work in progress di un dato sistema e lo vediamo. Il work in progress di un dato sistema, WIP qui sulla sinistra, è dato da lambda L, dove lambda è la frequenza di ingresso o di uscita di cose dal sistema, quindi possiamo dire che finiamo due future al giorno, due user story al giorno, tre user story al giorno, una user story al giorno e così via. E L, il lead time, cioè quello che abbiamo visto prima, quanto tempo ci mette questa attività da quando io la inserisco nel mio backlog a quando la consegno. Quindi, essendo questa una relazione lineare, quindi vuol dire che il mio WIP limit aumenta all'aumentare, al mio WIP, il mio work in progress, aumenta con il mio aumentare del, sia del lead time che della frequenza di ingresso e di uscita dal sistema. La riscrivo così e vediamo come, appunto, c'è una relazione che io posso sfruttare dall'altra parte, quindi per abbassare il lead time, che è l'obiettivo della prima via, per abbassarlo, la cosa su che io posso fare immediatamente nel mio processo è quello di aumentare, di diminuire il work in progress, quindi diminuire il numero di cose in contemporanea, diminuire il numero di cose aperte che abbiamo nel nostro processo. Assolutamente sì. come dice David J. Anderson nel suo libro sul gestione a Kanban con questa frase secondo me eccezionale stop starting e start finishing cioè dobbiamo smettere di iniziare nuove attività e concludere effettivamente quelle che abbiamo già iniziato. Tenendo presente appunto questa relazione lineare questa è la cosa più facile e immediata che possiamo fare per ridurre il lead time. Mettiamo un limite, smettiamo di continuare ad aprire indefinitamente attività e cominciamo a farne poche e quelle che facciamo le chiudiamo. Sempre con l'obiettivo di ridurre il lead time la prima via prende completamente dai principi lean e ci fa concentrare su quelle che sono eliminare gli sprechi mood in giapponese e waste in inglese. Cosa dobbiamo eliminare? Dobbiamo eliminare il lavoro parziale e ci colleghiamo a quello che abbiamo detto poco fa sul discorso del work in progress e di mettere un limite al work in progress. Processi inutili tutto quello che è un processo burocratico di troppo approvazioni tutto quello che è effettivamente inutile di toglierlo spietatamente. Togliere anche le feature inutili quindi essere davvero bravi e capire che cosa dobbiamo sviluppare. Cambi di contesto ci colleghiamo un po' al discorso di nuovo del work in progress cercare di ridurre i cambi di attività cambio di attività uguale cambio di contesto uguale perdita di produttività attese lavori che attendono per esempio una revisione da qualcuno che attendono dei test manuali sono lavori che stanno sprecando risorse anche il movimento è uno spreco cioè cose che continuano a passare da una parte all'altra del nostro processo senza effettivamente progredire difetti i difetti causano rilavorazioni le rilavorazioni sono sprechi tutto quello che è un lavoro non standard quindi quello che non segue dei processi ben definiti o delle pratiche ben consolidate in azienda è uno spreco perché ci richiede degli sforzi in più allo stesso modo di quelli che sono gli atti eroici cioè per esempio un intervento in produzione dal super esperto in azienda di turno che solo lui sa fare quella cosa e anche questo è uno spreco di risorse per migliorare ulteriormente la prima via abbiamo quindi che cosa dobbiamo fare dal punto di vista tecnico quali sono le attività tecniche prima abbiamo esaminato quelli che sono gli sprechi le attività che dobbiamo cercare di togliere dal punto di vista tecnico per ridurre il lead time e quindi soddisfare i principi della prima via dobbiamo fare mettere le fondamenta per dei deployment un processo di deployment strutturato e automatizzato dobbiamo investire in testing quindi tutto quello automatico e veloce non sui test manuali quelli rimarranno in misura molto ridotta e in contesti ben specifici ma i nostri investimenti devono essere fatti in test automatici e veloci che ci diano dei feedback significativi quindi investire in quelli che sono i processi di continuous integration e testing a seconda delle definizioni dovrebbe essere dire testing può essere visto come di più perché continuous integration potrebbe già avere all'interno della sua definizione l'esecuzione di test automatizzati infine dovremmo investire in tutte quelle che sono le pratiche per avere release a basso rischio quindi canary blue green deployment e così via a proposito o di video al riguardo riassumendo quindi la prima via ci fa guardare avanti con decisione ed è concentrata sul ridurre il lead time e fare tutto quello che possiamo per ridurre questo tempo da ridurre gli sprechi ad implementare pratiche e tecnologie per ottimizzare i nostri processi riducendo gli interventi manuali investendo fortemente in automazione e testing per il deployment e testing automatizzato per oggi con i principi di devops con le vie di devops ci fermiamo qui spero che questo video sulla prima via ti abbia incuriosito e ti abbia fatto venire voglia di approfondire ulteriormente o magari riflettere nel tuo team o in azienda dove potresti migliorare se da questo video hai imparato qualcosa oppure ti è piaciuto mi raccomando metti il mio mi piace e iscriviti al canale per essere notificato sulle nuove uscite ciao